L'inizio della fine del coronavirus, mettiamola così, è solo l'inizio, è solo l'inizio, però è un inizio importante, è una giornata simbolica, simbolica perché la lotta a questo virus è partita contemporaneamente in tutta Europa, contemporaneamente in tutta Italia, contemporaneamente in tutte le province pugliesi. Quindi oggi sarà anche per noi un test, una giornata test per verificare appunto il funzionamento della macchina organizzativa della campagna vaccinale. La prima fase della campagna vaccinale inizierà nei prossimi giorni, e man mano che arriveranno i quantitativi di vaccino necessari per vaccinare le prime 95.000 persone, operatori sanitari e ospiti delle RSA.